Assessore Tribuiani, manca ancora un piccolo spicchio di stagione estiva. Alcuni dati però relativamente al mese di giugno e luglio sulle presenze turistiche albadriatiche sono emerse anche alla luce di quello che è stato il gettito dell'imposta di soggiorno. L'unico dato da cui possiamo apprendere più o meno le presenze è la tassa di soggiorno. Diciamo che a giugno, sia a giugno che a luglio, abbiamo al momento riconfermato le presenze dello scorso anno. Forse a luglio un 3-4% in più di presenze sono state rilevate dalla tassa. Ovviamente aspettiamo i dati di agosto. Dal nostro punto di vista è una stagione che è andata abbastanza bene. Notiamo comunque un leggero calo di consumi dovuto a fattori che non dipendono dalla città dal nostro punto di vista ma dipendono dalla situazione internazionale, quindi il caro benzina, il caro delle materie prime, il costo del lavoro. Per cui possiamo anticipare il fatto che è una stagione che è in linea con quella dello scorso anno. Sotto questo punto di vista è anche in linea con quello che accade e sta accadendo nelle località limitrofe. Il trend è identico alle altre località? Sì, diciamo che dobbiamo comunque continuare a lavorare sia per confermare questi numeri ma soprattutto per aumentarli. Tanto che finita la stagione convocherò già i primi tavoli di lavoro con gli operatori economici per cercare di capire dove portare questa città, cosa migliorare e soprattutto creare un pool di lavoro per condividere il più possibile le strategie turistiche della città.